Anche quest'anno la raccolta benefica innamorati della solidarietà sostenuta dall'associazione Alto Tevere contro il cancro di Città di Castello è stata un grande successo. Moltissime sono state le coloratissime scatoline di cioccolatini acquistate da persone comuni, aziende, associazioni sportive e musicali a fronte di un piccolo contributo. Nei giorni precedenti a San Valentino promosse da volontari in varie location della vallata. Con il ricavato dell'iniziativa l'associazione ha acquistato un importante accessorio utile per ottimizzare il posizionamento del paziente durante i trattamenti di radioterapia. L'ausiliario è già stato consegnato all'ospedale di Città di Castello ed installato dai tecnici e già da alcuni giorni i pazienti del reparto di radioterapia possono usufruirne.